salve a tutti io sono mariangela e benvenuti o bentornati nel mio canale che si chiama lo spazio di mary se vi va ve lo dico già da ora potete seguirmi o sul mio sito web www lo spazio di mary.it o su instagram dove mi chiamate dove mi trovate come lo spazio di mary e dove condivido un po tutte quelle che sono le mie passioni quindi cucina yoga benessere cosmesi makeup e quant'altro dunque stessa situazione dello scorso video ovvero una faccia mi rendo conto impresentabile occhiaie capelli pessimi senza trucco però davvero col caldo io proprio non riesco e se non riesco a dare un aspetto decente alla mia faccia va a finire che poi magari non pubblico video però questo mi dispiace perché nell'ultimo periodo diverse idee e quindi mi piace condividerle con voi ma bando alle ciance passiamo all'argomento del video di oggi dunque oggi faccio un video un po diverso dal solito perché vi voglio dare un consiglio su un prodotto che sto sperimentando nell'ultimo periodo ovvero uno spray fai da te per la pulizia della casa allora in pratica è una sorta di sgrassature l'ho realizzato con tre semplici ingredienti che sono acqua aceto nel mio caso ho utilizzato l'aceto di mele ma penso si possa sostituire tranquillamente anche con l'aceto di vino bianco io ho usato questo perché avevo questo in casa e detersivo per i piatti io ho questo qui della viviverde cop che peraltro vi consiglio perché è comunque un detergente biologico quindi in teoria dovrebbe essere meno inquinante per l'ambiente e devo dire la verità fa il suo lavoro bene io ne metto un goccio sulla spugnetta e mi sgrassa bene le stoviglie dunque a che cosa ci serve questo spray questo spray io lo utilizzo per pulire i sanitari e per pulire l'acciaio della cucina quindi il lavandino e il piano di cottura e devo essere sincera trovo che sia ottimo contro il calcare e per rimuovere lo sporco devo dire la verità il cattivo odore dell'aceto non è che si senta molto quanto meno se avete la finestra aperta nel giro di qualche minuto va via quindi non puzza come lo realizzo lo realizzo con mezzo bicchiere d'acqua mezzo bicchiere di aceto e diciamo una dose che corrisponda ad un cucchiaino di detersivo per i piatti poi non dovete fare altro che schegherare ed utilizzare il prodotto io vi consiglio di farne poco poco perché lo consumate nel giro di un paio di giorni e siccome all'interno c'è dell'acqua e non ci sono conservanti rischiate che se ne fate molto quindi se magari riempite il flacone rischiate che vi vada male quindi al posto di pulire quindi di igienizzare rischiate di far proliferare germi e batteri detto questo quindi ricetta davvero semplicissima vi lascerò due clip e una in cui vi faccio vedere come realizzo il prodotto ma non è che ci sia molto da vedere perché è davvero una roba semplicissima basta assemblare i tre ingredienti e un altro in cui vi faccio vedere praticamente come ci pulisco il lavandino del mio bagno io spero di esservi stata utile fatemi sapere se vi fa piacere vedere altri video per quanto riguarda la pulizia della casa perché io comunque sia sono una trentenne che si occupa di casa e mi piace poter trovare comunque soluzioni alternative per non spendere tanti soldi in detersivi e comunque trovare magari un prodotto che vada bene per più cose come ad esempio in questo caso io questo lo uso sia per pulire il bagno che per pulire la cucina quindi se vi fa piacere magari condivido con voi anche altri trucchetti per quanto riguarda la cura e la pulizia della casa e se voi avete dei consigli da darmi non esitate lasciarmi un commento e se vi fa magari iscrivetevi pure al canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao allora ragazzi eccoci qui dunque iniziamo con il mezzo bicchiere d'acqua dopodiché aggiungo il mezzo bicchiere di aceto ed infine aggiungerò il goccino di detersivo per piatti e poi scegherò ora vi mostro invece come ci pulisco il rubinetto del bagno dunque agitiamo il prodotto e lo spruzzo un po su tutta la superficie e lo spruzzo anche su una spugnetta con la spugnetta cerco di distribuire bene tutto il prodotto su tutta la superficie e strofino bene in modo da eliminare magari eventuali macchie nel caso del rubinetto del bagno magari macchie di dentifricio macchie di sapone io questo lo utilizzo anche per pulire l'acciaio del rubinetto della cucina il piano cottura dopodiché passo a sciacquare voi mi raccomando non fate come me ma mettetevi i guanti che proteggeranno le vostre mani io in estate spesso purtroppo me ne dimentico e poi mi aiuto con una con uno straccetto in microfibra per asciugare il tutto e potete vedere come tutta la superficie è venuta lucidissima come se avessi usato un normale anticalcare tutto questo grazie soprattutto alla presenza dell'aceto che è un ottimo anticalcare naturale io spero di esservi stata utile ciao